No ho capito, ho pensato che in Borghese di... Ma è bene il giudo? Dove? Aspetta un po' di tornare a Cimanghese Don Giovanni 07, a metà e mezzo? Questa c'ho più di un quarto, spero che me basta Sini confermo sempre prudente Gli giudo Per un po' di torno a Cimang Per un po' di torno a Cimang Questa c'è la prima parte di tornare a Cimang Per un po' di torno 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 a Cimang Grazie. 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 Grazie.